Ciao amici Nike, buongiorno buongiorno a tutti, bentornati sul canale, eccoci qua con Mavic Air 2 faremo un punto della situazione dopo un mese di utilizzo, vi dirò cosa mi è piaciuto e cosa mi è piaciuto di meno invece di questo fantastico drone, sigla! Mavic Air 2, l'ho fatto diversi video, l'avete visti, potete vederli sul link qui sopra l'ho fatto in un video settimana scorsa in montagna, come si è comportato nei video che ho fatto? Voglio fare un'analisi in 5 punti insieme a voi, primo punto, capacità di volo la capacità di volo di questo drone è eccezionale, la risposta ai comandi è veramente da 10 non mi ha mai dato nessun tipo di problema nella risposta e ha volato sempre in maniera perfetta devo dire da questo punto di vista un drone ed è un drone che risponde ai comandi come quasi tutti i droni DJI ma in questo caso secondo me il rapporto fra il peso, la velocità, la potenza dei motori è veramente perfetto secondo punto, secondo punto, le riprese video, le riprese video avete visto sono di ottima qualità ho provato sia in 4k a 60 frame al secondo, a 30 frame al secondo mi pare di poter dire insieme a voi che la qualità sia veramente molto elevata qualche piccola pecca se vogliamo legata al fatto che non possiamo fare a 60 frame al secondo tutte gli active track e tutte le funzioni un po' così automatiche però secondo me questo non è assolutamente un problema, ripeto, sono situazioni che magari utilizziamo per qualche video, qualche momento di comporto terzo punto, l'autonomia di volo l'autonomia di volo è un altro dei pro di questo drone effettivamente io ho volato per 27 28 minuti devo dire anche con un po' di vento quindi sicuramente sfruttando parecchio quelle che sono le capacità del drone quindi sforzando abbastanza i motori ha retto veramente bene fino a 27 28 minuti sono tornato con il retor to home al 15 20 per cento di autonomia quindi la durata della batteria è veramente un altro dei pro di questo drone che volevo farvi vedere questi tappini che ho fatto con la stampante laser se volete vi lascio il link diciamo il file stl per poterli stampare sono molto comodi perché quando lo mettono nello zaino praticamente mi aiutano a proteggere il motore in modo così che possano essere ben protetti soprattutto le parti della punta che potrebbe danneggiarsi con le mollettine quindi in descrizione vi lascio il link per scaricare il file, può essere utile quarto punto se vogliamo una nota negativa di questo drone è comunque ampiamente positivo ed è la questione legata al discorso del peso su cui più volte ho manifestato le mie perplessità e vedo che è uscito, ci sono dei rumors che dicono che il Mavic Air 2 verrà certificato CE chiamiamolo così postum da DJI insieme a EASA per il prossimo anno e quindi potrà rimanere in categoria open category però ad oggi fino a che non succederà questo i 570 grammi ci mettono un piccolo limite o piccolo grande secondo dei casi il suo utilizzo in ambienti critici soprattutto per volare in open category vicino a cento abitati soprattutto vicino a persone in qualche modo che anche non sono informate del nostro volo e questo è un piccolo limite per soli 70 grammi se vogliamo è una parte negativa più legata all'aspetto normativo quinto punto la sensoristica è un atto degli aspetti diciamo negativi comunque di questo drone che qualcosa di negativo deve pure averlo il fatto della mancanza di sensoristica sia sulle parti laterali qui del drone che non ha sensori sia sulla parte superiore ha i sensori inferiori, i sensori frontali, i sensori posteriori ma se ha un problema sul laterale quindi sullo spostamento laterale oppure verso l'alto quindi supponiamo sta volando e verso l'alto trova un ostacolo, un albero, qualcosa, un ramo lui non lo riconosce e questo ha creato e crea dei problemi perché chiaramente uno si aspetta di avere come dire una protezione totale e invece non ce l'ha questo lo trovo una piccola pecca secondo me soprattutto la sensoristica laterale perché quando uno magari lo mette in active track parallelo piuttosto che in operazioni automatiche magari si sente tranquillo in realtà lui lateralmente non si accorge di niente e può andare in crash e quindi questo quinto punto è l'ultimo punto che mi sento di dire leggermente negativo nella portazione di questo drone ma vediamo ora qualche funzione che voglio farvi vedere insieme con voi qualche funzione abbiamo visto l'ottavolta in montagna ancora perché chiamiamo la feature lo chiamate così, non so chiamiamole funzioni speciali chiamiamole funzioni automatiche che questo drone fantastico riesce a fare ci vediamo quindi accendo il drone, lo metto in moto e facciamo qualche operazione in volo a dopo ok, leviamo i tappini ormai sappiamo come farlo ecco qui il mio fantastico zaino Manfrotto inutile dire il solito discorso le eliche ormai sappiamo come farlo quindi non lo so neanche a dire monto le eliche e poi facciamo decollare il nostro Mavic Air ok amici del NARC ecco il drone ha riconosciuto il punto attiviamo la registrazione ci chiede di aver verificato le eliche ci avvisa che vogliamo in qualche modo assumerci la responsabilità dove lo stiamo facendo per quanto siamo vicini alla zona di pretola vedete ci chiede di sbloccare a questo punto disurta il drone sbloccato e possiamo decollare io trovo questa cosa molto giusta che ha fatto il J.A. ecco che lo portiamo è arrivato vicino a noi bene a questo punto vogliamo attivare qualcuna delle sue funzioni facciamo come vi ho sempre insegnato esercizi di verifica di tutti i comandi quindi che il drone risponda correttamente ai comandi vedete bene che ne risponde quindi ce l'avviciniamo ce l'avviciniamo a circa un metro di altezza qui abbiamo la possibilità di bilanciare il bianco la possibilità di aumentare o diminuire il guadagno di quella che è l'esposizione quindi ok sovraesporre o sottesporre al nostro piacimento qui possiamo cambiare naturalmente il tipo di ripresa quindi in questo caso c'è la registrazione video in corso io posso selezionare qui vedete se posso mettere adesso mi metto in 4k a questo punto mi consente di avere fino a 60 frame al secondo naturalmente per le funzioni di active track dobbiamo stare sui 30 frame al secondo possiamo andare in normale in HDR possiamo fare il quick shot e l'hyperlapse ma ora quello che mi interessava fare con voi era le funzioni praticamente di active track soprattutto vedere come lui mi possa scansare visto che qui c'è un albero e vedere se funzionano i sensori che questo è un aspetto che fino adesso non abbiamo provato quindi giriamo il drone verso di noi vedete a questo punto mi sta inquadrando mi avvicino vedete io vado a fare creare diciamo un rettangolo con le dita questo spiega come funziona noi saltiamo questo e abbiamo diverse funzioni l'active track che può essere segui o in parallelo lo spotlight e poi il point of interest che è quello che abbiamo visto l'altro giorno in montagna oggi facciamo l'active track cioè con il comando segui quindi attiviamo il comando segui go a questo punto mi alzo naturalmente vedete che lui continua a seguirmi lo allontano vedete che lui ancora non mi ha perso di vista fortunatamente a questo punto camminerò e mi andrò a posizionare perché sono come dire un po' bastardo mi andrò a posizionare girando intorno a quest'albero speriamo che i sensori funzionino perché questo drone io l'ho comprato vedete mi sto spostando sta funzionando alla perfezione scusate ma devo girare la telecamera prima si è avvicinato a un ramuscello e sostanzialmente è andato molto vicino ho temuto per lui adesso infatti mi muovo frontalmente lui mi sta seguendo e speriamo ecco vedete qui ti li ha sentiti mi giro perché fantastico amici di Nike vi confesso che ho un po' sudato perché siccome questo è mio l'ho pagato come dire non me l'hanno regalato se mi si schianta sono 900 euro comunque è veramente fantastico scusate se mi giro ogni tanto ma insomma come dire mi sta seguendo alla grande quindi esperimento cosa posso dire riuscito riuscitissimo attenzione a quel paletto eccoci qua questa è la telecamera fantastico fantastico sono contento come un bambino registriamo di nuovo facciamo il nostro rettangolo che ci inquadra saltiamo tutta la spiegazione che in questo momento non ci interessa e facciamo lo spotlight la differenza tra lo spotlight e active track io lo posso portare qui ok in questa posizione spostarmi e lui sostanzialmente lo vedete mi segue senza come dire avvicinarsi come ha fatto prima quindi sostanzialmente lo spotlight io posso come dire comandarlo alzarmi abbassarmi avvicinarmi abbassarmi ancora e lui in tutto questi movimenti praticamente lui continua a vedere insomma in buona sostanza mi segue qualunque comando io faccia quindi praticamente mi consente di poter interagire di più col drone quindi diciamo rispetto all'acti track parallelo o diciamo come dire a seguire in seguimento lo spotlight mi consente di poter come dire spostare il drone nella posizione che preferisco pur mantenendo l'inquadratura su di me in qualche modo quindi il drone mi segue quindi adesso è molto lontano mi ha perso ecco questo vediamo in diretta un problema sono passato in mezzo a questi alberi non so se mi vedete chiaramente lui a un certo punto mi ha perso attenzione quando fate questo comando a fare in modo di rimanere comunque in una zona che non crei un cano d'ombra al drone altrimenti lui vi perderà ok bene anche questo l'abbiamo visto facciamo l'ultimo il point of interest l'abbiamo già visto in montagna voglio farlo qui l'altezza ce lo consente e facciamolo quindi di nuovo vado a inquadrarmi a questo punto facciamo go vedete lui ha una quota che è preimpostata io a questo punto lo alzo perché sta andando addosso agli alberi vedete lui fa la dotazione ecco che voi non vedete ma io a questo punto lo fermo perché e adesso giro la telecamera scusatemi sono da solo quindi devo fare tutto in autonomia vedete vedete cosa è successo spero si sia visto che succede lui per fare finire il cerchio il cerchio maledetto non avendo sensori laterali stava andando a schiantarsi quindi questo punto vinto questa attenzione amici di Donach fatelo se non c'è niente lateralmente perché vedete quest'albero qui lui continua a voler completare il suo cerchio non avendo sensori laterali che succede che se io non obbligo il drone a fermarsi per così dire quindi a tornare sui suoi passi lui si va a schiantare beatamente su questo grosso albero lo fermiamo ci fermiamo questo maledetto comando quindi amici di Donach questo del punto vinto insomma della rotazione intorno a un punto vi consiglio veramente fatelo con grande attenzione cioè siate sicuri che non c'è niente vicino a voi perché lui non ha sensori laterali e vi si schianta sull'albero abbiamo visto quindi quali sono le funzionalità legate all'ActiveTrack funzionano perfettamente ha seguito benissimo avete visto ha scansato anche l'albero attenzione ai comandi automatici avete visto soprattutto la mancanza di sensori laterali può diventare veramente un grosso problema specie se fate il point of interest quindi la dotazione intorno a un punto perché se c'è un minimo ostacolo e voi non avete valutato il laterale lui ci schianta contro quindi occhio ad attivare i comandi automatici di ActiveTrack stando bene attenti che intorno non ci sia nessun ostacolo perché altrimenti questo può diventare veramente un grosso problema non so se avete visto Enac ieri mi sembra di l'altro ha lasciato una nota ufficiale nella quale sospende fino al primo settembre l'obbligo del patentino per le operazioni ricreative nel basico attenzione quindi il critico dovete comunque avere l'esame insomma solo per le operazioni ricreative sostanzialmente il portale di flight degli esami online ha avuto un grosso problema quindi fino al primo settembre chi vuole che ancora non l'avesse fatto vuole aspettare le vacanze vedere come funziona il drone ricreativo ancora può farlo senza l'obbligo del patentino e questa mi sembra una cosa molto intelligente vi ringrazio seguite il canale attivate la campanellina qui sotto se volete rimanere sempre aggiornati il caldo comincia a farsi sentire sarà meglio di entrare a casa e montare il video ci vediamo alla prossima settimana ciao da DroneArk